Se io fossi un pezzo di carta, vorrei che qualcuno scrivesse il suo nome sopra. Se io fossi inchiostro, vorrei essere quel nome scritto su un pezzo di carta. Cambio pagina. Che bello poter essere il sorriso di un bambino. Certo vivrei per pochi istanti, ma sai che istanti. Se potessi scegliere però, deciderei di essere una poesia. Senza parole, senza virgole. Ma allora cosa rimarrebbe? Rimarrebbero le parti vuote. È lì che mi trovo. Grazie a tutti.